Ora siamo qui per fare una prova, un test che riguarda Cubase, Cubase 5, in particolare una delle sue funzioni che ritengo più interessanti. Analizzeremo Cubase in varie puntate di questo blog, di questo video blog e oggi ci dedichiamo a una funzione che riguarda l'audio. Andiamo quindi ad importare una traccia audio, in particolare una traccia di voce, una traccia vocale. Questa potrebbe essere adeguata, solo per fare davvero un esempio. Nell'editor di Cubase abbiamo una funzione in questo Cubase 5 che è simile al piano roll che abbiamo quando registriamo delle tracce MIDI. Dopo la registrazione chiaramente possiamo andare a modificare e spostare diversi parametri del MIDI, ad esempio quello che si usa più spesso è l'altezza della nota. Grazie a questa nuova funzione di Cubase possiamo fare altrettanto con l'audio, basta cliccare sull'editor audio e utilizzare la funzione vari audio. Cliccando viene fatta un'analisi della forma d'onda, che è quella sottostante, che viene divisa in dei blocchi e ogni blocco sa rappresentare una nota. Ascoltiamo. Ad esempio ci dice che questa è una traccia, è un mi, però è un mi, leggiamo mi 3, più 18%, cioè è un pochino più alto di un mi. La possibilità che abbiamo inizio è quello di abbassarlo e farlo diventare un mi al 100%. Senso è scorso per quest'altra nota. La traccia di partenza già era chiaramente quasi perfetta, però possiamo ulteriormente precisarla. Andiamo a riascoltare. La traccia aggiustata per così dire. Questo è l'intervento diciamo minore, è un intervento che può fare, può effettuare anche un autotuner, insomma impostato nella maniera adeguata. La cosa più interessante che possiamo fare, però con questa nuova funzione, è quella di spostare del tutto le note. Ad esempio... otteniamo un'altra frase, diversa. E la cosa interessante è che vengono rispettati, diciamo, i passaggi tra una nota e la successiva. Chiaramente questa funzione è tanto migliore quanto più non la rendiamo invasiva, ovvero possiamo portarla anche alle estreme conseguenze. Il risultato però non è, diciamo, dei più piacevoli. Però per realizzare delle cose particolari possiamo prenderle comunque in considerazione. facciamo anche mettere tutto sulla stessa nota. La cosa utile è che possiamo avere anche un preascolto mentre spostiamo nota. un altro intervento che possiamo fare sul file di partenza è non solo aggiustare, per così dire, le note, che è un intervento che possiamo fare anche in automatico. Come vedete, se utilizzo la funzione quantizza altezza, automaticamente viene, per così dire, avvicinata la nota togliendo tutte le percentuali di sfasamento. Adesso abbiamo tutte le note perfette. È la stessa cosa che prima abbiamo fatto manualmente. Possiamo però, inoltre, andare a modificare la lunghezza non tanto del file audio, come magari potremmo fare anche prima, ma della singola nota che compone il file audio. Chiaramente lo sottolineo stiamo lavorando con tutti i file monofonici. Possiamo, ad esempio, allungare la prima nota a scapito della seconda. Possiamo fare altrettanto con questa. Con questa possiamo accorciarla. Posso allinearmi, chiaramente, anche alla griglia, come si fa normalmente, diciamo, con quelli che possono essere dei dati midi. Posso intervenire sulla nota, ad esempio tagliandola. E quindi andare a intervenire su una parte della nota. E un'altra possiamo spostarla. Questa che è molto lunga. Possiamo tagliarla in vari pezzi. e di questi vari pezzi, chiaramente, viene calcolata l'intonazione relativa. Questi pezzi, a loro volta, diventano singole note che posso trattare individualmente. che ci fa capire... invito ad ascoltare, ancora una volta, che la qualità audio è eccellente. In un mix sarebbe davvero difficile riuscire a individuare che sono stati effettuati degli interventi correttivi o comunque di modifica. Andiamo a tagliare anche quest'altra, ad esempio. Tendo ancora a sottolineare che queste parti di passaggio vengono, diciamo, trattate in maniera che il passaggio tra una nota e l'altra sia... che sia fluido e non sia fastidioso. Viene, come ripeto, rispettato... glissando il morphing tra una nota e l'altra. ... 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